A Monte Castelli si gioca l'ultima gara della domenica perché la partita inizia alle 18.15 e gli ospiti della Grifo Sigillo sono subito pericolosi con questo destro che impegna il portiere Cenzini. Ancora break della squadra ospite in ripartenza molto veloce, lo andiamo a vedere subito con il pallone lavorato da Bazzurli il colpo di testa sullo spazio per l'inserimento molto buono da parte del numero 10 Vispi che viene però rimontato da un ottimo intervento difensivo. Poi ancora la Grifo Sigillo sulla sinistra, il pallone messo in mezzo, il colpo di testa a botta sicura da parte di Calzuola per la rete del 1-0. Siamo al 17esimo partenza velocissima della Grifo Sigillo che poi ancora si porta in avanti con la giocata sulla fascia il cross arriva di gran carriera Gaggiotti ma manda il pallone alto sopra la traversa. L'arbitro dice che c'è stata una deviazione sul tiro di Gaggiotti. Poi ancora ottimo Vispi che si accetra, cambia fronte di gioco e poi il gran sinistro, la parte di Marchi che termina alto sopra la trasversale. È un ottimo Grifo Sigillo, una sicuramente delle squadre che godono del favore del pronostico finale ma la risposta del Monte Castelli non si fa attendere seppure la girata di Mariani non è trascendentale e può abbrancare Lapazio il pallone in presa. Poi ancora in avanti Grifo Sigillo il gran sinistro ed è il raddoppio di Calzuola al 29esimo, dunque doppietta per il bomber di mister Giacomo Calzuola che dunque fa 2-0. Davvero a questo punto la partita sembra in ghiacciaia ma in un primo tempo tutta azione e gol non può mancare la risposta di Gran Turchelli che si accentra, tocca il pallone per la corrente. Izzio fa che lascia partire un bellissimo esterno destro che si infila in rete tre minuti dopo il raddoppio quindi al 32esimo, è 1-2 con il vantaggio del Grifo Sigillo che come vedete dalla sovraimpressione sarà anche il risultato finale ma ci prova ancora Mambrucchi, Mambrucchi che si avvicina al limite dell'area torna sui sei passi, lascia partire questo sinistro che non impenserisce Lapazio che abbranca ancora. Poi rilancia immediatamente e per fortuna riesce a chiudere la difesa di casa. Poi ancora il Monte Castelli con questo tiro con Lapazio completamente fermo per sua fortuna non inquadra lo specchio della porta. Con le immagini passiamo alla ripresa con i padroni di casa protesi alla ricerca delle pari e però Gran Turchelli se lo mangia abbastanza davanti al portiere questa era davvero una buona occasione. Si continua ancora in avanti mentre arrivano le ombre della sera qui c'è ancora il bomber stavolta però Calzuola non prende bene le misure e sparacchia alto sopra la traversa. Si accennano i riflettori non si spenge però la Grifo Sigillo che prova ugualmente ancora a portarsi in gol sinistro alto sopra la traversa. Si va a grandi battute verso la seconda parte del secondo tempo. Lancio lungo qui perde il pallone il portiere Cenzini e per poco non ne approfitta. Anzi l'arbitro dice che si tratta di calcio di rigore va sul dischetto Gaggiotti e segna la rete del definitivo 3 a 1 con la quale la Grifo Sigillo supera il Monte Castelli e dunque va a vincere questa partita importantissima per la squadra ospite. Un commento sulla partita? Si, è stata una partita difficile perché loro hanno giocato bene, siamo stati bravi ad andare sul 2 a 0 però subito hanno accorciato quindi quando dal 2 a 0 poi ti trovi 2 a 1 la partita diventa sicuramente difficile. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo tenuto bene il secondo tempo, purtroppo abbiamo tante assenze speriamo che recuperiamo qualcuno perché sono veramente tante, abbiamo finito la partita solamente con un solo cambio e è stata dura. Alla fine siamo riusciti il 3 a 1 per chiuderla però forse qualche occasione la potevamo chiuderla anche prima però è stata una partita difficile, era importante partire col piede giusto e la cosa più importante con i ragazzi era portare a casa i tre punti e quindi bene. Grazie.